Restano ancora alti i numeri di migranti assistiti dalla Croce Rossa al centro di accoglienza del Parco Roia a 20 miglia. Le cifre si aggirano intorno alle 700 persone al giorno e non accennano a diminuire. Non sono mancati anche momenti di tensione fra operatori della Croce Rossa e migranti che hanno cercato di impossessarsi di scorte alimentari. Dalla Francia continuano inoltre le espulsioni che nel fine settimana allungato di ferragosto hanno riguardato 200 persone. Da questo punto di vista va detto però che le forze dell'ordine italiane hanno evitato la loro permanenza a 20 miglia caricandoli su dei bus e disponendone il trasferimento in parte a Genova e in altre e in altri centri del sud Italia. I no border non hanno creato particolari problemi salvo aver violato l'ordinanza del sindaco Enrico Ioculano e aver distribuito del cibo a oltre 100 migranti lungo le strade 20 migliesi al di fuori del centro allestito in Parco Roia.